Tre video in uno, non certo perché questi tre argomenti non meritino un video per ciascuno, ma perché noi vedremo oggi le interazioni di questi tre aspetti. Parleremo di stance, parleremo di angolo di separazione e parleremo di spinta della gamba di dietro. La stance è la posizione dei piedi, quindi non del busto, ma la posizione dei piedi rispetto alla palla, quindi io potrei avere un open stance che è esattamente questa, quindi stando di fronte alla palla completamente con i piedi e man mano che mi giro potrei avere una semi open stance, una neutral stance così e una close stance. Partiamo dal diritto, quando noi giochiamo il piede che determina la distanza dalla palla è il destro, il piede sinistro, la gamba sinistra determinerà la stance. Se io ho una palla, prendiamo la palla, questo è il punto di contatto con la palla, il mio piede destro sarà in questa posizione, il piede sinistro cercherà la stance, il piede sinistro cerca la stance, quindi io potrei giocare open stance, potrei giocare semi open, potrei giocare neutral, potrei giocare close, però dipende molto dalla gamba destra, quindi se io appoggio male la gamba destra in riferimento alla posizione dei piedi che voglio ottenere, la posizione del corpo rispetto alla palla sarà errata. Ad esempio, se io mi fermo troppo presto con questa gamba, con la gamba destra e la palla è là, io devo cercare la palla con la gamba sinistra e quindi giocherò con una close stance che non mi permette di essere aggressivo, oltretutto questa parte del corpo mi bloccherà il movimento, senza contare il fatto che di solito quando si arriva in questa posizione il peso del corpo è già in avanti. La regola è il peso del corpo dalla parte della racchetta, quindi quando io ho la racchetta dietro il peso del corpo sarà sulla gamba destra, per poi trasferirsi sulla gamba sinistra mentre colpisco la palla. Quindi la racchetta e il peso sempre dalla stessa parte, questo vale chiaramente anche per il rovescio. Prima io vi ho fatto vedere la stance facendo questo. Allora, se questo piede è parallelo alla rete, quando io mi giro avrò il busto e i fianchi sulla stessa linea. Quello che devo creare invece è un angolo di separazione tra il busto e i fianchi per far sì che i muscoli laterali producano energia. Quindi come posso fare? Se questo piede invece di metterlo parallelo alla rete, perché oltretutto nel momento in cui io trasferisco il peso del corpo, vedete, il piede mi porterebbe, la spinta mi porterebbe verso quella direzione. Invece io devo andare in avanti, quindi quando io arrivo in questa posizione il piede dovrà ruotare, ma se io arrivo con il piede, con la punta del piede, diciamo più o meno a 45 gradi, quindi con la punta del piede che guarda là, quando io preparo il colpo, la gamba bloccherà l'anca e io ruotando il busto avrò creato quest'angolo di separazione, quindi avendo più energia nel corpo. In questo caso vedrete che sarà anche molto più facile colpire la palla davanti al corpo, perché alcune volte quando io giro completamente busto e anche insieme alla gamba, delle volte vado troppo in rotazione e quindi rischio di colpire la palla dietro. Se invece io questo piede lo blocco, riesco a ruotare le spalle e l'impatto è sicuramente davanti al corpo. Vediamo Djokovic in una posizione di open stance adesso, ecco la posizione del piede destro che permette la spinta verso l'avanti. Come possiamo vedere la linea delle anche e la linea delle spalle non coincidono, quindi lui crea questo angolo di separazione per aumentare l'energia. Nell'open stance l'energia che viene applicata alla palla deriva più da un movimento rotatorio del busto, quindi ci sarà più una velocità angolare della racchetta e quindi questa posizione con il piede appoggiato a 45 gradi sicuramente agevola la spinta verso l'avanti. Le differenze di angolo del piede avvengono per una diversa stance. Qui ad esempio Djokovic sta arretrando e gioca una neutral stance o semi open e quindi il piede ha un angolo inferiore rispetto, la punta del piede ha un angolo inferiore rispetto al colpo precedente. Qua addirittura andiamo verso una neutral stance con un movimento laterale, anche qui vedete ecco il piede, la punta tende leggermente a chiudersi comunque verso l'avanti, quindi a non rimanere aperta proprio il piede parallelo alla rete ma chiudersi leggermente in avanti. L'angolo di separazione tra i fianchi e le spalle è sicuramente inferiore, adesso l'energia che viene trasmessa sulla palla è più orizzontale. Sicuramente chi ha problemi di impatto arretrato utilizzando e pensando un pochino di più, ecco in questo caso lo stesso vedete, pensando un po' di più a come mettere il piede destro e usare delle stance leggermente più aperte agevola un impatto sicuramente davanti al corpo, quindi questo può benissimo aiutare. Quando è che comincia a spingere la gamba destra nel dritto? Inizia a spingere prima del movimento della racchetta. Io devo cominciare a trasmettere l'energia dal terreno progressivamente alla parte finale che è la racchetta. Allora mentre mi alzo da questa posizione, facciamo l'esempio, magari gioco in semi open, da questa posizione spingo verso l'alto, l'ingresso dell'anca trasmette il movimento al busto che trasmette il movimento alla spalla, braccio, avambraccio e racchetta. Nel rovescio abbiamo la stessa situazione, anche se nel rovescio poi avremo sì una spinta della gamba di dietro, perché quando preparo il peso del corpo comunque è dalla parte della racchetta, ma questa spinta è sicuramente inferiore a quella che devo ottenere con il dritto, anche perché si gioca molto più spesso frontale e semi open nel dritto che non nel rovescio e quindi la spinta della gamba destra avrà ancora più rilevanza. Un esercizio per allenarsi ad appoggiare bene il piede destro o anche il piede sinistro? Questa esercitazione proposta dal professor Luca Dutto, che ringrazio, l'ho presa da un webinar che ho fatto con lui, molto interessante ed è un'esercitazione che può essere fatta a tutte le età, a tutti i livelli, per la coordinazione oculopodalica. In questo caso viene svolta verso il lato destro, però si può fare anche per il rovescio, anche perché le due cose vanno di pari passo, nel senso se io sbaglio a mettere e ad appoggiare il piede destro quando gioco il dritto oppure il piede sinistro quando gioco il rovescio, la mia posizione rispetto alla palla dovrà essere compensata da un appoggio del piede sinistro, come abbiamo visto prima, e quindi non è la cosa ottimale. L'esercitazione consiste nel mettere dei riferimenti ben precisi a una certa distanza o anche a distanze variabili e correre senza passi di aggiustamento, cercare di mettere la punta del piede in corrispondenza di un riferimento ben preciso. Lo vedremo dopo anche nell'esercitazione pratica che ho fatto in campo. La partenza può essere frontale, può essere laterale, può essere anche di schiena e la successione può anche essere variabile, quindi io parto, vado sul primo, poi vado sul secondo, vado sul terzo oppure random. Vediamo l'esercitazione in campo. Da questa posizione senza passi di aggiustamento devo mettere il piede più possibile sulla linea del puntino verde, troppo lontano. Giusto. E così facendo io alleno la coordinazione oculopodalica. All'inizio del video ho detto che avremmo analizzato questi tre aspetti. In realtà la struttura del movimento è unica e poi noi la possiamo suddividere in dettagli. Chiaramente se questi dettagli variano, come ad esempio l'appoggio del piede, varia anche l'efficacia dell'azione. Quindi è importante considerare tutta la struttura del movimento e eventualmente giocare sul dettaglio per migliorare l'efficacia del movimento e l'efficacia quindi della nostra tecnica.